Nella notte tra sabato e domenica una coppia ha tentato di investire gli addetti della security della discoteca Plaza di Tortoreto dopo essere stata respinta all'ingresso perché è in evidente stato di alterazione psicofisica. I due giovani inizialmente si sono allontanati a piedi per poi tornare poco dopo con un'auto per lanciarsi contro gli addetti della sicurezza che prontamente sono riusciti ad evitare l'auto che però ha danneggiato l'entrata del locale e non creando fortunatamente nessun problema alle tante persone presenti all'interno. Dopo un secondo tentativo fallito di colpire il personale i due sono fuggiti. Un episodio isolato appunto di un tentativo da quello che abbiamo appreso di sfondamento di un locale privato. Certo non è che solo dispiace, un po' preoccupa ma in realtà noi siamo sempre attenti come tutti gli altri protagonisti ovviamente e partecipanti della sicurezza della comunità e del territorio quindi tutte le forze dell'ordine. Ovviamente cresciamo sempre di più come paese ma soprattutto è la società che cambia e quindi dobbiamo essere sempre più attenti ma su questo siamo tranquillamente sicuri di quello che stiamo facendo. I carabinieri intervenuti rapidamente hanno avviato le ricerche della coppia anche tramite l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. I due ora rischiano l'accusa di tentato omicidio. Le forze dell'ordine sono ovviamente al lavoro proprio per assicurare che i colpevoli siano trovati e facciano le loro indagini di routine come da legge. Sicuramente, ripeto, c'è fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e quindi andiamo tranquillamente avanti nella nostra vita quotidiana. Avete ascoltato i gestori per una vicinanza? Personalmente non li ho sentiti. Sono sicura che sono gestori ovviamente che sanno quello che devono fare, quali sono le loro competenze anche a livello di normativa per il locale e per tutte le pertinenze. Tanto è vero che appunto la stessa stampa e dall'episodio che dalle notizie che abbiamo c'erano comunque gli addetti e la sicurezza c'erano e sicuramente anche loro stanno dando il loro contributo per quanto riguarda le indagini.